L'applicazione UnipolSci non funziona, se in questo momento stai tentando di utilizzare l'app UnipolSci e hai avuto dei problemi ad accedere e a entrare all'interno della tua area personale sappi che non sei l'unico, ci sono stati dei piccoli problemi che sono in fase di risoluzione ma c'è anche una procedura che ti consente di sbloccarla nell'immediato ho scritto una guida che fa proprio al caso tuo, se non riesci ad usare l'applicazione vai su Google digita il mio nome e cognome, io mi chiamo Ciro di nome, muto di cognome una volta all'interno del mio sito istituzionale con il pulsante di ricerca se digiti la parola app UnipolSci, la frase perdonami, ti compare la guida di riferimento alla fine ci sono anche due bonus lettura, uno è molto interessante è un conto totalmente gratuito con bonifici gratuiti, ciao!